Allora, a trasmissione di oggi comincieremo la lettura del Sentiero d'Oro. Prima però di fare la lettura del Sentiero d'Oro, volevo dare una risposta all'amica che mi diceva ma chi non ricorda? Il non ricordare le cose, non ricordare da dove veniamo, non ricordare le cose che ci hanno messe in ginocchio. Bene, per questa amica li leggerò, da donne che corrono coi lupi, la storia della loba. C'è una vecchia che vive in un luogo nascosto che tutti conoscono ma pochi hanno visto. Come nelle favole dell'Europa occidentale, pare in attesa di chi si è perduto, di vagabondi e di cercatori. È circospetta, spesso pelosa, sempre grassa e desidera evitare la compagnia. Emette suoni più animaleschi che umani. Dicono che viva tra putride scarpate di granito nel territorio indiano di Tarahumara. Dicono che si è sepolta alla periferia di Fenix, vicino a un pozzo. Dicono che è stata vista in viaggio verso il Monte Alba, su un carro bruciato, col finestrino posteriore aperto. Sta accanto alla strada, poco distante dal Paso. Dicono, cavalca impognando un fucile da caccia, insieme ai coltivatori verso Morelia, Messico. Li hanno visto avvicinarsi al mercato di Rosaca, con strane fascine sulle spalle, a molti nomi. L'auersera, la donna delle ossa, la trapera, la raccoglietrice, la loba, la lupa. L'unica occupazione della lupa è la raccolta delle ossa. Notorialmente raccoglie e conserva in particolare quelle che corrono il pericolo di andare perdute per il mondo. La sua caverna è piena di ossa delle più varie creature del deserto, il cervo, il crotalo, il corvo, ma si dice che la sua specialità siano i lupi. Striscia e settaccia le montagne e i letti prosciugati dei fiumi alla ricerca di ossa di lupo. Quando ha riunito un intero scheletro, quando l'ultimo osso è al suo posto e la bella scultura bianca della creatura sta davanti a lei, allora siede accanto al fuoco e pensa a quale canzone cantare. E quando è sicura si leva sulla creatura, solleva su di lei le braccia e prende a cantare. Allora le costole e le ossa delle gambe cominciano a ricoprersi di carne e le creature si ricoprono di pelo. La lupa canta ancora e quasi tutte le creature tornano in vita con la coda ispida forte che si rizza. La donna selvaggia, scusate un attimo, e ancora la lupa canta e il lupo comincia a respirare, e ancora la loba canta così profondamente che il fondo del deserto si scuote, e mentre le canta il lupo apre gli occhi, balza in piedi e corre lontano giù per il canyon. In un momento della corsa, per la velocità della corsa medesima, o perché finisce in un fiume, o perché un raggio di sole o di luna lo colpisce alla schiena, il lupo è di un tratto trasformato in una donna che ride e corre libera verso l'orizzonte. Così si dice che se vagate nel deserto, ed è quasi l'ora del tramonto, e vi siete un po' perduti e siete stanchi, allora siete fortunati, perché forse la lupa può prendervi in simpatia e mostrarvi qualcosa, qualcosa dell'anima. Questa è la loba. La loba è quella donna, quegli esseri umani che ricordano il passato, che sanno mantenere il ricordo su ciò che ha prodotto il presente, e sanno costruire il futuro trasformando il presente. La loba raccoglie le ossa che un giorno furono esseri umani che potevano tentare di costruire il loro futuro, le mette insieme e cerca di dare una possibilità, cerca di ricostruire ciò che è andato perduto, cerca di fare in modo che la vita non si spenga. Quando l'orrore dei cristiani alzava i roghi, quando i macellai dei crociati ammazzavano milioni di persone, c'erano sempre dei piccoli uomini che cominciavano a costruire il loro futuro, che cercavano di ricostruire il mondo che andava distrutto. Bene, questi uomini, queste donne, sono la loba, hanno il ricordo di ciò che fu e hanno la possibilità di ricostruire il futuro. E quando loro cantano, le ossa riprendono forma, lo spirito delle persone comincia a vibrare e a dilatarsi. Questo è il non ricordare. Il non ricordare significa non sapere perché si fanno le cose, significa non sapere perché si costruisce il potere di essere, significa distruggere la propria esistenza. Non ricordare è una delle cose peggiori che possono esistere. Ebbene, la loba ci permette di ricordare, la loba ci permette di andare ad abbeverarci alla sua fonte. Lei è la fonte della vita e a quella fonte possiamo riprendere il cammino verso la libertà. Come cammino verso la libertà lo possono riprendere tutti quei cattolici che sono messi in ginocchio davanti al macellaio di Sodoma e Comorra e che si stanno accorgendo di aver sbagliato percorso nella loro esistenza. Questa è la loba. Spero di essere stata chiara per l'amica. L'unica cosa che io non posso fare è parlargli del vaso di Pandora perché mi sono venute in mente talmente tante cose che non trasmetterei più. C'è molte cose da mettere in ordine. E per quanto riguarda poi amore e psiche e tutta l'altra mitologia greca io non è che sia molto ferrato in mitologia greca. Comunque qualcosa potrei lavorarci sopra. Bene, adesso che vi ho letto per l'amica la storia della loba che è tratta dalla Donne che corrono coi lupi della Clarissa Pinkola Estes di Frassinelli ripeto, a me le storie di questa mi piacciono moltissimo e mi piace moltissimo l'ottica attraverso le quali le scrive. Ciò che io non sono molto d'accordo è sulla sua analisi antropologica ma è un conto essere apprendisti stregoni è un conto essere dei cristiani che cercano di dilatare se stessi cercando delle cose diverse da quelle che il loro Dio gli ha insegnato. Sono cose diverse. Ed ora prendiamo la trasmissione di oggi. La trasmissione di oggi tratta di un libro che è Il Sentiero d'Oro. Che cos'è Il Sentiero d'Oro? Il Sentiero d'Oro è la lettura attraverso la stregoneria delle immagini dell'antica Roma. Come nasce questo libro? Allora, il libro nasce in modo molto strano. Nasce da un sogno ricorrente che io avevo e che era quello di trovarmi nella biblioteca del Primiero e di cercare un libro molto antico. Bene, io in quei tempi, ancora sto parlando di circa una decina di anni fa frequentavo Imer e andavo a fare le vacanze di Imer. Praticamente il Primiero rappresentava il paese centrale di quella vallata e quella biblioteca rappresentava qualcosa in cui io cercavo e trovavo un libro molto antico. In realtà dopo non ho più frequentato la vallata del Primiero, sono andato a frequentare l'altipiano di Asiago. E effettivamente sull'altipiano di Asiago ho trovato un libro che mi ha fatto comprendere alcune cose reali del libro d'Anticristo. Cioè, diciamo che nel mio percorso è stata messa dentro un'ottica diversa. Quella era l'ottica che mi ha messo dentro il libro antipiano di Asiago? Mi ha messo dentro il fatto che le linee di tensione che ci circondano hanno una loro coscienza, hanno una loro consapevolezza, sono vive, sono degli dei esattamente come me. Se io prima ritenevo che la Terra fosse una divinità che camminava con me e solo una divinità che camminava con me, cioè una coscienza divina, ebbene, sull'altipiano di Asiago ho visto che anche le linee di tensione che prima pensavo mute erano invece delle coscienze, avevano una loro volontà e delle loro determinazioni. E allora ho fatto una ricerca su questo e nella biblioteca di Asiago ho trovato un libraccio che se potete tranquillamente trovare dappertutto che mi ha dato il via a quello che poi sarà il Sentiero d'Oro. Praticamente mi ha dato un elenco di divinità che io ho ritrovato nelle linee di tensione. Ebbene, io ho scritto il libro antico che in realtà dovevo andare a trovare nella biblioteca del premiero. Io ho scritto esattamente ciò che dovevo trovare. E dalla lettura di quelle immagini della religione romana viene fuori una visione diversa di quella che è la religiosità pagana. Infatti fu da allora che io divenni pagano. Vi salto dal libro del Sentiero d'Oro la premessa che è molto lunga, prenderebbe quasi tutta la trasmissione. Vi leggerò le prime considerazioni, una piccola precisazione e alcune immagini della religione romana viste dal punto di vista della stragoneria. Queste immagini sarebbero Terminius, Silvano, Fauno e Fauna, forse anche Fatto. Adesso vediamo a che livello riesco ad arrivare con la serata. Il Sentiero d'Oro Prime considerazioni Pensare un sistema magico religioso antico con gli occhi di chi è nato, vissuto, educato nell'attuale sistema religioso è tale da snaturare il sistema religioso studiato. Quando gli imbecilli guardano gli uomini considerano le loro azioni dal punto di vista dell'imbecille e non sono in grado di assumere il punto di vista degli uomini che implica la soggettivizzazione di un'oggettività a loro talmente estranea da risultare incomprensibile, assurda, imbecille. Essi appiattiscono tutto al loro livello unico livello nel quale possono esercitare la comprensione dell'esistente o dell'esistito in quanto soltanto quel livello coincide col proprio essere. Se costoro sono adoratori di un Dio presumono che tutti abbiano sempre e comunque in ogni circostanza adorato un Dio perché essi, esseri vuoti non concepiscono nessun'altra relazione fra se stessi e la loro divinizzazione piegano i mutamenti e le circostanze alla loro natura negando l'esistenza di tutto ciò che con quella natura non coincide usano il termine primitivo o selvaggio col disprezzo di chi considerandosi creato ad immagine e somiglianza del proprio Dio disprezza chiunque si rapporta in modo consapevole col mondo circostante disprezzano chi non condivide le loro paure e le loro fobie e non sono in grado di considerare il processo storico e coercitivo che queste paure ha costruito finalizzano il loro fare al servizio di cose ed esseri estranei alla loro persona anche quando coerciscono e violentano esseri per la soddisfazione dei propri bisogni più o meno depravati essi creati da un Dio assassino nascono senza coscienza e senza conoscenza pertanto non possono riconoscere altro che esseri viventi coscienza pertanto non possono riconoscere coloro che esistono vivendo coscienti e consapevoli nel mondo circostante gli adoratori del Dio devono distruggerli distruggere la loro coscienza e la loro consapevolezza distruggerne il ricordo unica condizione attraverso la quale esaltare la loro impotenza e la loro ignoranza distruggerli significa uccidere finalizzando l'assassinio a rattrappire la coscienza e la consapevolezza sviluppatasi in quei popoli ridicolizzano il credo degli uomini e il loro sapere approfittando che costoro non fanno di quel sapere e di quella conoscenza una merce da barattare così facendo gli adoratori del macellaio di Sodoma e Gomorra distruggono ogni possibilità di sviluppo della conoscenza all'interno della natura da parte dei popoli per poter smerciare l'impotenza e le fobie del loro dio assassino precisazione la religione dell'antica Grecia è stata indicata non in quanto elemento in sé ma come strumento nelle mani del potere di avere per allontanare gli esseri umani del sistema sociale dalla relazione fra sé e il circostante non si mette in discussione il valore delle immagini della religione greca e la loro formazione ma l'uso che il potere di avere ne ha fatto per sviluppare se stesso nella storia romana e adesso veniamo alle immagini della religione romana la prima immagine che trattiamo è Terminius io uso termini sia latini che italianizzati o italiani italianizzati indifferentemente la scelta è mia è soggettiva ed è indiscutibile Terminius è il punto di arrivo il termine un essere percorre una via e nel percorrerla concentra il proprio volere la propria volontà la propria energia fino a raggiungere e fino a giungere allo scopo voluto fino a risolvere la contraddizione che l'indusse a percorrere tale via quando giunge o si giunge al termine c'è il rilassamento l'energia che l'essere ha concentrato e compattato si distende lasciando il proprio segno nel percorrere quella via nel compattare quell'energia egli si è trasformato e giunto al termine può contemplare la propria trasformazione Termine è il punto di arrivo di un processo di trasformazioni Termine è il confine del campo fin dove si può camminare senza calpestare i diritti dei vicini Termine è il fine della sequenza dei mutamenti da dove si contempla il percorso fatto tutto ciò che è in mutamento sfocia in termine un punto nel quale quella serie di mutamenti cessa per far partire una nuova serie di mutamenti per giungere ad un nuovo termine Termine in un modo o nell'altro e una forma o nell'altra in un'esistenza o nell'altra esiste sempre fin tanto che esiste il mutamento Termine ha una propria energia l'energia degli esseri che producono o subiscono i mutamenti Termine ha una propria coscienza la coscienza degli esseri che producono subiscono o concorrono il mutamento mutamento essi stessi è proprio perché mutati coscienti di essere mutati della quantità di mutamento ottenuto dal raggiungimento di Termine Termine non può avere né padroni né limitazioni l'essere diviene Termine terminando la sequenza dei mutamenti diviene Termine diventando eterno diventando uno con l'universo Termine è immenso come l'universo Termine è il fine dei mutamenti dal più piccolo essere alle grandi concentrazioni stellari trasformazioni dell'universo nel suo divenire Termine è il tempo scandito dai mutamenti e della loro direzione Termine è il principio speranza che alleggia nel cuore e nei sensi degli esseri Chi guarda Termine con ansia di giungervi altro non può vedere che quel fine muoversi e vibrare mutando in continuazione e quando lo vede tendere animo energia e quando lo vede tendere animo energia tende di nervi e volontà o al contrario lasciarsi andare alle condizioni dell'esistente o farsi divorare da un termine a cui non si è stato in grado di imporre il proprio volere Termine è là in moto ed osserva gli esseri di ogni specie che tentano di raggiungerlo attraverso le mutazioni non è né benevolo né malefico non gli frega nulla degli esseri sono costoro a determinare il proprio principio speranza e dei loro sforzi a coscienza solo fin tanto che ci sono i mutamenti e fin tanto che gli esseri percorrono il proprio sentiero per giungere ad un fine qualunque essere qualunque fine continuerà continuerà ad esistere fin tanto che gli esseri alimentano la speranza di raggiungere il loro fine dall'esistenza di Termine gli esseri trarranno energie di incoraggiamento per organizzare e giungere al loro fine la tensione degli esseri proiettati verso il fine alimenteranno la forza di Termine per questo Termine è più potente di Giove e per questo non è disponibile sul Campidoglio accedergli il posto e gli rappresenta il fine dell'esistenza a cui anche Giove deve sottostare se vuole progettare il proprio esistere Terminios si erge sotto il cielo nel tempio di Giove sul Campidoglio dove il suo santuario era incluso si aprì il tetto affinché gli fosse direttamente sotto il cielo questo perché Termine è il divinuto di tutti gli esseri e la loro attenzione verso il futuro e fra tutti gli esseri l'universo ha la tensione più grande verso il suo Termine bene adesso abbiamo letto anche Termine e vediamo un attimo Silvano Silvano è un'altra coscienza della religione romana vi ricordo che tutte le divinità della religione romana sono state distrutte dal cattolicesimo cioè il cristianesimo ne è distrutto completamente il ricordo l'unica cosa che è rimasta del ricordo è quanto ci è rimasta dagli ultimi scrittori dagli scrittori dell'impero praticamente bene prima di prima di cominciare Silvano un attimo solo di pausa un attimino eh ci sono un po' di disturbetti qua in regia oggi non so perché prima non c'erano e subito dopo sono arrivati vediamo Silvano Silvano un insieme produce un effetto qualora quell'insieme interagisca attraverso una sequenza di contraddizioni mutamenti adattamenti soggettivi con l'oggettività espandendosi quell'effetto è una forza che si erge maestosa davanti a chi alterando la percezione sottratta al pensato della ragione la guarda e vi si rapporta specificità coscienti di un essere più maestoso col quale non potendo abbracciare per intero ci si rapporta con una sua parte funzionale a questa parte si attribuisce la capacità di libero arbitrio in quanto questa si adatta all'oggettività incontrata modificandosi qual è la quantità dell'esistente che un essere umano è in grado di abbracciare rapportandosi fino a contemplare la numenia la consapevolezza di poter abbracciare le coscienze circostanti consente di staccare l'attenzione da una concentrazione cosciente ad un'altra ma al contrario la non consapevolezza nell'uso dell'attenzione porta questa a fissarsi su un unico aspetto dell'oggettività questa cosciente di sé viene isolata dall'insieme e dall'attenzione del soggetto e con questa il soggetto stabilisce una relazione l'essere si rapporta con l'oggettività in cui vive perché tale oggettività è in grado di soddisfare i suoi bisogni attraverso questa relazione la specificità oggettiva che avvolge il soggetto nutre e si nutre del soggetto attraverso questa relazione il soggetto immerso nell'oggettività nutre e si nutre dell'oggettività stessa l'oggettività entra in relazione col soggetto attraverso l'attenzione del soggetto come l'attenzione dell'oggettività nella sua continua ricerca di espansione e dialetizzazione stimola il soggetto ad aprirsi ad aspetti specifici dell'oggettività così le scelte specifiche del soggetto manipolando la propria attenzione aderisce a questo o a quell'aspetto dell'oggettività Silvano è l'essenza del bosco non di un bosco qualunque ma del bosco che entra in relazione con l'essere umano il bosco è un insieme di esseri viventi che hanno in comune la tensione all'espansione e a questa tensione l'essere umano non è estraneo egli taglia il bosco e a questa azione il bosco si oppone rinnovando la propria crescita quando l'essere umano è discreto nel tagliare il bosco lo rinvigorisce rinnovandolo ma quando l'essere umano si trasforma in saccheggiatore il bosco lo distrugge costringendo l'essere umano a scelte tali da modificare snaturando la sua natura attraverso la modificazione della sua coscienza e della sua consapevolezza il bosco era ed è la fonte della vita al bosco veniva tolto lo spazio per coltivare il campo dal bosco si otteneva legna nel bosco e nelle sue vicinanze le greggi pascolavano il bosco è una coscienza estraibile dall'insieme il bosco è Silvano nella sua relazione con gli esseri umani gli esseri umani in relazione col bosco sono essi stessi Silvani parte di Silvano il bosco è vita energia vitale libera a questa energia gli esseri umani attingono e danno l'essere umano cosciente di questo guarda il bosco con rispetto e al bosco chiede rispetto per se stesso il bosco risponde Silvano risponde nessun essere umano è strano nel bosco quando egli stesso è bosco nessun essere umano è strano a Silvano quando egli stesso è Silvano Silvano è il principio maschile del bosco il seme attraverso il quale il bosco si riproduce a Silvano le donne non piacciono in quanto non gli piace la funzione socialmente imposta agli esseri umani femminili di fattrici di carne da lavoro o da macello aumentando questa senza regole né fini né limiti si riduce lo spazio del bosco per nutrire la nuova prole dando quasi nulla in cambio così facendo si riduce e si trasforma la coscienza del bosco si riduce e si trasforma la coscienza Silvano a Silvano piacciono i pascoli dove le greggi si nutrono e concimano dove piccole piante possono crescere rigogliose a Silvano piacciono i pastori discreti passeggiatori di valli concimatori di terre e distributori di semi il tentativo di trasformare Silvano nel pam greco è una pessima operazione dargli una forma una fisionomia allo scopo di indurre adorazione rappresenta un tentativo di mettere qualcuno sull'altare e qualcun altro in ginocchio di questo tipo di operazioni ne assisteremo a molte con l'unico scopo di far dimenticare gli esseri umani la capacità di cercare il Dio che cresce dentro di loro dando e rivendicando il diritto al rispetto Silvano poteva essere involcato soltanto nella foresta in quanto di questa era l'essenza e a questa gli esseri umani si rivolgevano per aver sostentamento da quando in Europa le foreste si sono ristrette per l'urbanizzazione e per il saccheggio dei cristiani le voci dei Silvani si sono fatte sempre più flebili anche se l'attenzione degli esseri umani non è venuta meno le foreste ricresceranno nonostante i saccheggiatori e la coscienza Silvano tornerà ad espandersi quando un aspetto dell'oggettività con la quale l'essere umano si rapporta tende a restringersi è l'essere umano che un po' alla volta si impoverisce quando questo avviene l'essere umano si ritrova indifeso e subisce attacchi la cui natura non è in grado di capire né di pensare in quanto appartengono a quella parte dell'esistente col quale ci si rapporta col fare quotidiano e sistematico non con le parole del pensato della ragione e questa è la visione di Silvano e adesso passiamo all'immagine di Fauno Fauno è l'aspetto mobile di Silvano se Silvano è la numenia del bosco dei Pasco nel loro insieme di vita in espansione Fauno è la numenia delle vite che si spostano degli esseri animali essere umano compreso sono gli esseri animali di cui l'essere umano è parte nelle varie zone delle varie specie conosciute e sconosciute che costituiscono un insieme funzionale all'espansione di quella vita specifica Fauno è parte di Silvano concentrando ed evidenziando in sé le caratteristiche proprie della specie animale e del loro fare all'interno dell'insieme in cui agiscono quando è paziente e lungimirante Silvano tanto è sensuale e immediato Fauno Fauno Scusate Silvano proietta se no qui c'è qualcosa che non va scusate un attimo no solo che qui c'è qualcosa che non va nell'impaginazione un attimo solo che sto guardando un attimo Silvano proietta se stesso in tempi lunghi mutamenti propri della foresta a volte a retra per ricominciare ad avanzare il campo arato viene ben presto rioccupato dal bosco se non viene curato Fauno è veloce e immediato come l'azione dell'essere cervo dell'essere aquila scusate dell'essere lupo prolifico come l'essere coniglio l'essere topo l'essere lepre paziente come l'essere lumbrico mutevole come l'essere battere è l'essere virus eccetera eccetera egli è tutti costoro e con costoro egli è l'essere umano in relazione col circostante cosa favorisce Silvano come tutti gli esseri favorisce se stesso e attraverso questo favorisce i viventi in forma animale esseri umani compresi non l'essere umano in quanto tale ma l'essere umano in relazione con gli esseri animali di tutte le altre specie non l'essere umano distruttore ma l'essere umano le cui mani sono al servizio di se stesso come elemento integrato nell'essere natura la percezione di fauno da parte dell'essere umano è direttamente proporzionale all'ampiezza del pensato della sua ragione relativa agli esseri animali che lo circondano quando l'essere umano guarda fauno scorge un essere le cui caratteristiche sono quelle che il pensato della sua ragione attribuisce alle singole specie di animali quando l'essere umano guarda fauno di quell'essere scorge le componenti delle specie animali che maggiormente lo colpiscono attraendone l'attenzione quando un essere umano guarda fauno fauno è ciò che l'essere umano vuole che questi sia ma è solo apparenza ai suoi occhi ciao vediamo un attimo fauno è grande quanto gli esseri animali di quel bosco di quel prato fauno è grande quanto gli esseri animali dell'intero pianeta l'essere umano anche quando è fauno non riesce ad afferrare fauno come insieme solo il percorso per lo sviluppo della sua coscienza e della sua consapevolezza sono in grado sospendendo il giudizio della ragione di allinearlo a fauno per ciò che è e non solo per ciò che gli appare vedere fauno in forma di mezzo uomo e mezzo animale sta a indicare la relazione che nonostante il pensato della ragione l'essere umano ha col mondo animale l'essere umano è un animale staccatosi dalla natura e autoproclamatesi figlio di un dio padrone in realtà egli appartiene alla natura ed agisce in funzione di essa saranno le sue scelte complessive a rivelarci se egli avrà con ciò agito come se avrà con ciò agito anche se in funzione di se stesso fauno è come Silvano ci circondano sono coscienze entrando in relazione con le quali si possono scambiare energia rinnovandoci fauno è una grande coscienza una grande fonte di vita non a caso si parla delle sue avventure galanti uno dei modi attraverso i quali gli esseri umani e gli esseri animali rinnovano la propria energia vitale accelerando nei flussi e il senso è caratteristica di fauno è caratteristica degli esseri che si costituiscono che si costituiscono fauno proteggeva le greggi non perché ne fosse il padrone solo i padroni ed i servi del macellare Sodoma e Gomorra si travescontano da buoni pastori al fine di derubare e sacrificare gli indifesi ma perché queste sono parte di se stesso e l'essere lupo è un essere discreto prendeva quanto gli necessitava non uccideva tanto per uccidere furono i proprietari di greggi ad erigere un tempio a fauno ma era solo forma i loro stessi greggi erano dei fauni con i quali i pastori si identificavano diventandone parte fauno è un essere magico non perché usa una bacchetta magica alla mosè tanto per intenderci ma perché l'energia vitale che lo compone è quell'animale energia direttamente utilizzabile dall'essere umano che con lui si rapporta diventandone parte è magica ogni azione attraverso la quale si cede e si sottrae energia vitale e ogni coscienza si fatta opera soltanto attraverso l'energia vitale per questo motivo esseri come Silvano e Fauno sono considerati degli dei niente a che vedere con l'uso del termine da parte dei cristiani Fauno non è un essere né maschile né femminile è energia vitale trasformata in vita animale fatta coscienza e questo è Fauno e c'è un'altra variabile di Fauno c'è una variabile nella religione romana che è Fauna e vediamo un attimino l'immagine che mi ha suscitato il tentativo di accostare l'elemento femminile a Fauno è un tentativo fatto da popoli specifici in situazioni specifiche che si modificano a mano a mano che Fauna anziché essere la parte femminile di Fauno prende forma come essere in sé Fauno è maschile solo nella raffigurazione e solo perché gli occhi che lo percepirano erano maschili quando occhi femminili lo guardarono colgono immediatamente l'aspetto femminile lo sbigottimento lo sbigottimento dei veggenti ha dato un nome femminile alla stessa visione ma a mano a mano che costoro approfondivano la visione coglievano anche aspetti che inizialmente ignoravano e non avevano osservato Fauno rivela così di comprendere ogni sesso presente nella natura animale e il suo nome femminile fu usato per disegnare altre cose perdendo l'incensività delle visioni iniziali è pratica del potere di avere isolare quegli elementi non consoni e funzionali a se stesso se il potere di avere e con questo anche il controllo fisico sulle greci fosse stato gestito dal sesso maschile per tradizione a scomparire molto probabilmente sarebbe stata la parola Fauno anziché Fauna anche se i veggenti scoprirono essere Fauno comprensivo di tutti i sessi e le loro variabili presenti nel mondo animale non detto nessuna importanza la forma trovando del tutto naturale lasciarlo in forma maschile una volta dato un nome una volta sfuggiti i confini che quel nome definiva gli esseri umani prigionieri del pensato della ragione fanno presto a conferire forma umana e con quella forma costruire un qualche mito funzionale al potere di avere imperante in quel momento molto bene facendo un calcolo del tempo riuscirò anche a leggere Fatto per cui se avete un secondo di pazienza che disseto un po' la mia stanca voce partirò per leggervi Fatto rieccomi qua Fatto Fatto è la parola del Dio immutabile o è la sequenza degli eventi parole immutabili del Dio si afferma Dio dice quel dire sarebbe il destino dell'essere umano o è il divenire dell'essere umano il detto del Dio il destino degli esseri costituenti la flora batterica del mio stomaco è legato al mio fare il mio fare determina la qualità e la quantità della flora batterica nel mio stomaco la mia morte è la trasformazione definitiva della flora batterica nel mio stomaco dunque il mio fare è il fatto degli esseri costituenti la flora batterica del mio stomaco e anche se non è un fattore unico ed assoluto in grado di modificare il divenire della flora stessa il fatto di far derivare la parola Fatto da Fari e non da Facere è una scelta soggettiva quanto è soggettivo il fatto che fatto deriva da una manipolazione di entrambe le radici la parola comunica le intenzioni il fare le determina il fatto è dunque il potere e le determinazioni concorrenti al processo del mutamento l'insieme dell'oggettività determina il fare in quanto le scelte attraverso le quali si agisce sono legate all'oggettività stessa il fatto sono muri attraverso i quali circoscrivere il fare umano circoscrizione ad opera di poteri relativi all'oggettività esistente con i quali il neonato si rapporta fin dal giorno della nascita la generazione fra il soggetto e questi poteri determina la qualità la quantità e la direzione attraverso la quale il soggetto tende ad evolversi costruendosi questi questi poteri sono sempre egoisti in quanto agiscono in sé e per sé e non in funzione di un qualche soggetto specifico è il soggetto immerso in quell'oggettività che all'interno di questa esercita primo il proprio libero arbitrio attraverso la scelta fra più opzioni secondo il proprio volere la propria volontà in funzione del proprio benessere il divenire non è né mai stato un atto subito da un soggetto ma appartiene al soggetto che lo finalizza o dovrebbe riuscire a finalizzarlo allo sviluppo del proprio potere di essere il divenire è un'esplosione di energia vitale che si sviluppa attraverso la relazione fra il soggetto e tutti i specifici aspetti dell'oggettività queste relazioni non hanno una coscienza specifica di sé ma sono delle esplosioni dell'energia vitale che se condotti lungo la strada del sé arricchiscono sia il soggetto che l'aspetto specifico dell'oggettività incontrato fatto dunque non è un dio del destino ma rappresenta il divenire dell'essere vivente e la specifica sequenza di scelte attraverso le quali questi costruisce se stesso fatto è il divenire del più piccolo essere della natura come quello dell'universo nel suo insieme la sua grandezza è costituita dall'esplosione di energia vitale prodotta dalle relazioni fra soggetti in funzione del proprio divenire non è difficile scorgere come potesse essere individuato un fato per ogni essere umano maschile e una fata per ogni essere umano femminile non è difficile scorgere il tentativo di personificazione della fata al fine di strappare all'essere umano la capacità di determinazione delle trasformazioni per assoggettarlo a un qualche dio padrone ed ecco per gli adoratori del dio padrone interpretare il fato come il volere del proprio dio al quale assoggettare i popoli e bloccare i processi di modificazione e trasformazione distruggere il loro divenire distruggendo le radici e le tradizioni seminando miseria fatto deve essere celebrato per ricordare fin tanto che attraverso il proprio volere la propria volontà il soggetto partecipa alla relazione con l'oggettività c'è destino e divenire come sviluppo del soggetto e dell'oggettività quando il soggetto soccombe o subisce perché reso impotente ad esercitare il proprio volere e la propria volontà non c'è più fatto ma solo desiderio che la morte ponga fine alla sua disperazione bene potrei andare avanti ancora con vacuna valeria veiove venere fortunno teniamoli per la prossima volta allora intanto cominciamo a dire che se qualcuno telefona noi li rispondiamo cioè nel senso che io gli rispondo le immagini della religione romana a cosa servono servono per riuscire a capire come si può descrivere il divino che il mondo che ci circonda produce cioè il divino del mondo che ci circonda può essere può essere descritto in vari modi può essere descritto a seconda di come noi lo percepiamo e della cultura che abbiamo per descriverlo facciamo un esempio il cielo per me è una coscienza di sé io lo percepisco come coscienza di sé ha una sua volontà ha una sua determinazione una direzione in cui svilupparsi però non è che io percepisco l'intera coscienza di sé del cielo percepisco quella parte che riesco percepire chiaramente io lo so che la coscienza è molto più grande di quanto io posso percepire però io percepisco quella coscienza in base al divino che ho sviluppato cioè al mio divino allo sviluppo del Dio che ho dentro a questo punto cosa resta? resta un infinito un infinito del cielo che io non posso percepire però io posso descrivere il cielo cioè posso e com'è che descrivo il cielo? se dovessi descrivere nel mondo della ragione la coscienza che io percepisco come comincerei a descriverla? intanto comincerei a descrivere quella coscienza in modo antico quella coscienza esiste prima che il primo essere della natura uscisse dal brodo primordiale pertanto quella coscienza è oggettivamente antica allora se io dovessi descriverla in fondo forma umana la farei vecchia farei di un vecchio quella coscienza si è trasformata dall'antico com'è che quella coscienza si è trasformata dall'antico si è trasformata attraverso il respiro di ogni essere della natura cioè da quando il cielo e la terra e il sole hanno prodotto la natura e è nato questa essere natura ogni essere ha respirato il cielo ha trasformato il cielo ha buttato la sua energia vitale le sue determinazioni la sua volontà il proprio pensiero i propri bisogni nel cielo e ha assorbito quello che era la volontà della determinazione del cielo ogni essere da quando è uscito dal brodo primordiale si è nutrito del cielo e ha nutrito il cielo ha trasformato il cielo tutto è in continua trasformazione allora a questo punto visto che ogni essere della natura ha riversato se stesso nel cielo e si è alimentato dal cielo io devo descrivere il cielo a questo punto tanto come un vecchio perché è antico e secondo come un sapiente qual è la forma di sapiente a cui io mi posso riferire fra gli esseri umani noi abbiamo forme tipo Socrate abbiamo non so forme tipo Platone forme tipo Pirrone abbiamo dei vecchi diciamo così dell'antica Grecia potremmo averli anche di altri però non abbiamo le immagini sul quale abbiamo concentrato molta attenzione ritenendo i sapienti dopo magari c'è tutto da dire su Socrate c'è tutto da dire su Platone c'è tutto da dire un po' su tutti però diciamo che esistono delle immagini su cui noi abbiamo focalizzato la nostra attenzione ed ecco che qui i vecchi avrebbero la barba avrebbero quell'aspetto di sapere quell'aspetto di sapienza che io penso di raffigurare però non hanno solo questo hanno anche altre caratteristiche il cielo è immenso io sono consapevole che esiste un'immensità un'immensità che io non conosco e allora se dovessi rappresentare questa immensità la rappresenterei in modo imponente magari la farei anche veleggiare nell'alto del cielo la rappresenterei proprio come un essere umano vecchio imponente con le caratteristiche di un saggio e che volteggia nel cielo bene io vi ho dato l'immagine di Zeus di Giove e guarda caso è l'immagine che i cristiani ci hanno stuprato chiamandola Dio padrone questo voglio dirvi noi percepiamo il mondo che ci circonda ma quando percepiamo il mondo che ci circonda lo percepiamo come essenza lo percepiamo come tensione lo percepiamo come come potere come modo col quale noi ci rapportiamo quando percepiamo questo però abbiamo anche una ragione abbiamo una descrizione e siamo costretti a descrivere siamo costretti a comunicare questa sensazione perché questo è il nostro modo di vivere se noi andiamo a comunicare questa sensazione andiamo a comunicare con una rappresentazione gli elementi della rappresentazione con cui noi comunichiamo li tiriamo fuori dalla realtà in cui viviamo ora se la realtà in cui viviamo è quella dell'Indios nell'Amazonia lui descriverà il potere che lo circonda le coscienze che lo circondano come con gli elementi tolti da essere indios dell'Amazonia se io dovessi descrivere le stesse immagini come non so etrusco del 800 avanti Cristo io prenderei le immagini proprie della cultura dell'800 avanti Cristo se io devo ridescrivere il potere che mi circonda le coscienze del circostante le tensioni del circostante i bisogni del circostante con cui io mi relaziono oggi come oggi devo prendere le immagini della cultura in cui vivo cioè è la cultura in cui vivo e la ricerca di quella cultura che mi permette di costruire la rappresentazione del divino che mi circonda però il divino non è diverso proviamo un attimo a vedere pronto? ciao dimmi sono Sirus dimmi ascoltami mi senti? si ti sento volevo sapere siccome ho ascoltato varie volte la trasmissione vedo che sei esperto studiato tanto sul cristianesimo no? pronto? io si ti senti? un esperto pronto? mi senti? io non ti sento mi senti? adesso si perfetto io non sono un grande esperto io uso quelle cose che mi servono hai studiato un pochino è abbastanza? si siccome per esempio volevo sapere la posizione della la donna nel religione nella vostra religione per esempio per esempio in islam la donna viene considerata metà di un uomo poi la donna è proprietà dell'uomo si poi la testimonianza di una donna non è sufficiente quando c'è un processo bisogna che siano due donne volevo sapere la posizione della donna nel vostro religione perfetto che posizione si guarda non te la dico io però ti leggerò per te e per chi ascolta Diana che è la rappresentazione della donna va bene? dove leggi? del sentiero d'oro che è l'immagine di origine romana va bene? si ok ciao ciao allora per l'amico che ha telefonato adesso è un argomento centrale questo la posizione della donna in una società determina la qualità della società stessa non è che sia una cosa una cosa secondaria allora per l'amico io avevo già detto questo passo la rappresentazione di Diana e io lo leggo al nostro amico pagina 23 un attimo scusa 21 23 Diana Diana è il principio femminile della vita Diana è la luce del giorno quando abbaglia chi si affaccia alla vita se Diana è identificata col bosco e con gli animali femminili del bosco è solo per una lettura molto approssimativa la vita avvolge l'intero pianeta e il principio femminile ne è l'essenza fondamentale il principio femminile deve sostenere il continuo scontro col tentativo di dominio da parte del principio maschile il principio femminile del principio maschile vuole dominare e soggiogare il principio femminile per appropriarsi costringendolo a soccombere il lato femminile del principio maschile si trovò impotente ad esprimersi in quanto veniva isolato si trovò allora ad allearsi al potere di avere il quale nella necessità di dominare il sistema sociale umano trovò in esso un suo formidabile alleato la donna venne rilegata nella casa serva di figli e mariti costretta a generare figli dei quali era obbligata a prendersi cura mentre l'uomo veniva liberato da questo obbligo giuridico e morale in quanto gestore del comando sociale Diana è il giorno lo splendore ogni giorno dopo ogni notte Diana è il cielo da cui la vita proviene come il regalo del sole Diana è il principio femminile della luce del giorno come giovane rappresenta quello maschile giove è il cielo come essere in sé Diana è la tensione del principio femminile che spinge per non essere soggiogato e costretto Diana è la libertà dell'essere femminile dalle costrizioni del principio maschile trasformatosi in comando sociale soccombendo al proprio lato femminile la psicologia da una lettura storico antropomorfica dei comportamenti attraverso i quali Diana prende forma sostanza e coscienza ma solo il veggente alterando la percezione può scorgere l'enormità dell'essere chiamato Diana o qualunque altro nome in altre culture quest'essere è legato ad ogni essere femminile in qualunque specie e attraverso le linee di tensione riversa e riceve energia vitale riversa e riceve energia vitale non come semplice ricevitore ma come coscienza in grado di determinare direzione qualità e quantità di energia vitale sia in entrata che in uscita quest'essere come tutti gli esseri tende ad espandere se stesso attraverso l'espansione del principio di cui è sintesi e sostanza Diana è in guardia affinché il principio femminile non venga mai messo in difficoltà e nello stesso tempo è pronta a fornire sostegno affinché ogni essere che può contribuire a liberare tale principio dalla costrizione possa essere in qualche modo aiutato Diana è pronta a cogliere ogni centimetro cubo di opportunità per sviluppare il principio femminile contro ogni costrizione dove sta la crudeltà del rito del bosco di Nemi la crudeltà sta nel cuore degli occhi di chi guarda e non comprende lo svolgersi degli eventi il cervo più forte acquista il diritto di perpetuare il proprio DNA con molte femmine il femminile è il maschio deve conquistarsi il diritto certamente questo è crudele per gli adoratori del macellaio di Sodoma e Gomorra che fanno della compravendita dell'essere umano denominato donna uno dei dogmi del proprio assoggettamento al loro dio dio maschio e padrone come il cervo maschio ambisce all'area in più grande così il maschio che ambisce ad occupare quella posizione sa deve conquistare e deve saperla mantenere un sapere impossibile da comprendere per gli adoratori del macellaio di Sodoma e Gomorra le cui posizioni sociali vengono acquistate leccando i piedi al più forte e costringendo il più debole a strisciare uccidere non è atto di crudeltà la crudeltà è costringere qualcuno a vivere entro mura strette costringerlo a fare qualcosa contro il suo volere costringerlo a diventare cieco davanti all'esistente costringerlo a mendicare la propria sopravvivenza nel quotidiano per interessi e scopi che nulla hanno a che vedere con la vita ma legati a dispensare pulsione di morte ed energia vitale stagnata la lotta per la vita non è crudeltà è così l'essere si conquista il posto al centro del bosco sacro di Nemi svolge un combattimento e diventa un nodo il nodo attraverso lui transiteranno tutte le linee di tensione di quel bosco Diana la sua furia dell'esistenza lo attraversa e uscendone riceverà la modificazione che quell'essere gli imporrà egli è lo stregone del bosco di Nemi il ramo d'oro è il suo divenire nell'eternità il ramo viene piantato per trasformarlo in un albero e gli pianta se stesso per trasformarsi in essere eterno il suo predecessore aspettava con ansi il momento nel quale sarà distrutto da un pretendente degno di quel posto egli metterà in atto tutta la sua forza la sua esperienza la sua astuzia per battere il pretendente ma non ha lo scopo di salvare la propria esistenza ma lo scopo di selezionare l'essere umano più degno per sostituirlo egli sa che dovrà morire per mano di un pretendente egli sa che la morte del corpo fisico si trasformerà in nascita del corpo luminoso egli sa come la sua morte sarà immediata ma nel morire vuole fare l'ultimo regalo a Diana chi lo ucciderà sarà effettivamente un essere umano più forte di lui sarà effettivamente colui che attraversato da Diana renderà costei più forte sarà effettivamente colui che attraversato da Diana si trasformerà in albero del proprio divenire Diana non artemide protegge gli schiavi o meglio impedisce che la schiavitù si trasferisca dalle catene ai polsi al cervello dalla costruzione materiale all'adesione soggettiva dello schiavo al proprio stato con l'abbandono di se stesso a tali condizioni Diana è libertà la libertà dell'essere umano femminile nella gestione del proprio sesso e della propria persona la libertà del represso lungo la via della gestione di se stesso la libertà dell'essere umano maschio di gestire se stesso senza essere costretto ad aderire a schemi o a dogmi perché Diana odia chi possiede mani onde soddisfare i propri bisogni incapaci di assumersi la responsabilità del proprio divenire costui sottrae la vita d'altre mani se ne compiace chiama questo potere valle è solo possesso di catene attraverso le quali costringere esseri della propria specie a soddisfare i propri bisogni senza dare nulla in cambio è potere di avere ottenuto distruggendo prima se stessi e poi l'oggettività nella quale si vive la feroce di Diana si esprime nell'atto di ribellione del represso quando rivendica la libertà nei confronti dell'oppressore quest'atto non ha nulla di nobile né è la sua espressione assoluta date le finalità è violento determinato assoluto crudele l'atto stesso deve appagare tutte le sofferenze che l'oppressore ha inferto all'oppresso della schiavitù l'oppressore ne ha fatto un'arte della mediazione per la coercizione per l'uscita dall'oppressione non esiste un'arte ma esistono atti violenti e feroci che hanno il volto e gli occhi di Diana costruire una morale sulla bellezza e la necessità dell'oppressione è di uno squallore tale che solo il fare degli adoratori del macellaio di Sodoma e Gomorra potevano concepire la forza di Diana si espande oltre ogni fede e oltre ogni credo col concilio di Ancirra in realtà edito di Carlo Magno la vita viene messa al bando chi respira libertà verrà macellato nonostante questo continuano le cavalcate al fianco di Diana la libertà sparisce del tutto soltanto quando l'essere umano muore finché un barlume di vita attraversa il corpo di Diana Diana offre la propria energia a coloro che nell'ultimo rantolo raccolgono la propria volontà per artigliare al collo il proprio oppressore Diana cavalca silenziosa nella notte oppure si libera nel cielo stellato sopra un legno di nocciolo o semplicemente trasportata dal vento perché lei è la luce nelle tenebre in cui il macellai Sodoma e Gomorra e il vigliaco di Nazareth avrebbero voluto precipitare l'umanità Diana è una forza dell'essere natura il principio femminile della vita Diana è essenzialmente una coscienza formatasi in relazione alle necessità dell'essere umano il suo bisogno è di cacciare tutte quelle forze concorrenti alla costruzione dell'oppressione fra gli esseri della natura il potere di avere è una caratteristica dell'essere umano il bisogno di libertà per costruire per poter costruire il potere di essere è un bisogno dell'essere umano il principio femminile attraversa tutti gli esseri della natura la congiunzione al bisogno di libertà è prettamente umana anche perché il potere di avere dell'essere umano saccheggia la natura Diana è alimentata da quanto di femminile presente in natura ma diventa più forte ogni volta che un cammino verso la libertà viene intrapreso da un essere umano ancora di più quando i processi di trasformazione dei sistemi sociali umani imboccano sentieri atti a rimuovere le catene e ad estendere le ali della percezione a Diana non importa se le vie intraprese sono processi lenti e calcolati o concausati da situazioni particolari o ancora da feroci atti di violenza questi appartengono al libero arbitrio delle scelte umane all'uso della loro volontà Diana cede e riceve energia vitale non distribuisce giudizi morali o comportamentali prerogativa fondamentale del macellario di Sodome e Gomorra e dei suoi servi quando devono appropriarsi e mantenere l'appropriazione del lavoro delle mani dei loro schiavi bene io te l'ho detto questo di Diana in realtà il principio femminile è un l'essere femminile per noi è fondamentale cioè in realtà tutta la natura si riproduce attraverso il principio femminile per cui non può esistere una società pagana non può esistere nessun pensiero pagano che non metta al suo centro l'essere umano femminile questo non significa che l'essere umano femminile diventa padrone ma per noi l'uguaglianza sociale proprio la parità in tutto ma la parità in eredità la parità economica è fondamentale cioè noi dobbiamo rimuovere ogni ostacolo che mette un alto e un basso un sopra o sotto tu sei meglio tu sei peggio tu no ti si e ti no cioè questi per noi sono cose che non possono esistere questo non significa che ma veramente sai nel paganesimo romano le cose non erano così è vero in tutti i paganesimi antichi ci sono state trasformazioni però il problema era che le trasformazioni devono andare in avanti non tornare indietro cioè se i maggiori diritti della donna della donna babilonese antica erano maggiori i diritti che non nelle donne a sire per esempio nelle donne a sire il marito aveva potere di vita o di morte la donna babilonese aveva anche la possibilità di ereditare chiaramente dopo c'erano le caste c'era tutto quello che si vogliamo però il problema è che da lì si va avanti cioè la libertà degli esseri è un processo di costruzione cos'è che a noi ci interessa ci interessa non tornare indietro ci interessa che non esistono principi filosofici principi di pensiero che possono tornare indietro quello che tu hai detto della donna araba per noi è orrore è orrore è già orrore è già quello che dice la chiesa cattolica cioè fa schifo figurati poi quello che è questione dei musulmani e degli arabi però noi sappiamo anche che i paesi arabi stanno vivendo un loro medioevo cioè esiste delle concezioni sociali che appartengono al nostro medioevo per cui noi siamo convinti che anche nei paesi arabi si può fare un salto in avanti soltanto se noi costruiamo qualcosa qui se noi apparteniamo a questo paese non ci possiamo fermare a quello che c'è noi dobbiamo partire da questo orrore e andare avanti e per noi l'uguaglianza sociale ma qualsiasi tipo di uguaglianza è fondamentale non concepiamo nessuna sottomissione anzi per noi i percorsi cioè bisogna alimentare i propri percorsi del più debole cioè per un pagano è inconcepibile che un capo dello stato come Scalfaro rivendichi il diritto costituzionale a dire quello che pensa per noi è inconcepibile perché è inconcepibile perché il capo dello stato ha talmente tanti mezzi per dire quello che pensa per affermarlo per farsi sentire le televisioni per dirlo a chiunque che riaffermare il suo diritto costituzionale a dire quello che pensa per noi è una cosa ridicola dov'è che per noi invece è importante è la riaffermazione del diritto costituzionale di dire tutto ciò che si pensa in qualunque occasione all'ultimo barbone cioè alla persona più povera la persona più misera la persona che non ha mezzi in questo paese perché questo perché noi siamo convinti che la libertà venga sempre misurata sulle persone più deboli socialmente più deboli cioè il poliziotto che si offende perché il barbone l'ha mandato a quel paese e lo denuncia per resistenza pubblico ufficiale a me fa aberrazione cioè è una cosa che per me è assolutamente inconcepibile è questa e purtroppo è un retaggio ancora del cattolicesimo che dice tu all'autorità ti sottometti io dico tu poliziotto hai tanti mezzi è chiaro che se qualcuno ti spara addosso quello va in galera perché ti ha sparato addosso però se uno ti manda a quel paese o ti spara una battuta denunciarlo per resistenza pubblico ufficiale o condannarlo che dopo tanti magistrati condannano sempre per me effettivamente un retaggio ancora del discorso cattolico tu ti metti in ginocchio davanti all'autorità c'è esiste ancora un'autorità che sottomette e per me questa è una cosa veramente inconcepibile l'unica autorità che io riconosco è la parità del diritto costituzionale è il diritto costituzionale dopodiché chiaramente il percorso di costruzione della libertà è un percorso lungo faticoso i nostri discorsi pagani il paganesimo nei paesi arabi avrebbe percorsi diversi da quelli che hanno qui in Italia anche qui in Italia non è che sia tanto semplice forze per tornare indietro stanno agendo in maniera molto forte ci sono molte forze che tentano di far ritornare a quello che era il medioevo per controllare gli individui e sono forze che agiscono con la calunia con la menzogna con la diffamazione con le cose più sporche che esistano bene se dovesse succedere che in Europa un paese dovesse prendere i provvedimenti che portano a questo sarebbe un disastro anche per i paesi arabi per questo resistere qui come resistere in qualunque parte come costruire qualunque tipo di libertà la libertà di pensiero la libertà di parole la libertà di poter comunicare la libertà di poter diffondere i mezzi per poterlo fare perché i mezzi non può averli solo il miliardario o l'industriale anche privo di mezzi per poter dire ragazzi dobbiamo perché le persone devono rendersi conto anche lo stesso nemico quello che ci combatte che la ricchezza del pensiero è un patrimonio sociale cioè la società vive sulle contraddizioni sulla pluralità di pensiero chiaramente questo non può essere accettato dai cristiani cioè i cristiani non possono accettare la pluralità di pensiero come non possono accettarlo i musulmani perché nel momento stesso in cui ciò avviene loro perdono il controllo fisico sulle persone e senza il controllo fisico sulle persone nel momento nel patto di Nazareth riuscirebbero mai mai al di fondo del loro pensiero mai 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 bene visto che ormai telefonate non ce ne sono più io sono già fuori orario adesso se arriva qualcuno bene si va bene mi stanno facendo segno di andare avanti raccolto il messaggio però metterò su un po' di pubblicità vi ricordo che io sono Claudio Simeoni vi do il mio indirizzo è piazzale parmesan 8 marghera vi ricordo essenzialmente che sull'enco telefono mi trovate come Claudio Simeoni via dravignole 4 perché ho appena cambiato casa e questa trasmissione magia stregoneria paganesimo che va in onda ogni giovedì su questa radio abbiamo cominciato la lettura del sentiero d'oro abbiamo già letto il libro d'anticristo abbiamo già letto Gesù di Nazareth dell'infamia umana e adesso cominciamo il sentiero d'oro il sentiero d'oro tratta delle immagini della religione romana come noi le descriviamo bene ringraziandovi per l'ascolto vi do l'indirizzo anche dell'istituto mediterraneo studi poeteisti casella postale 53 Marostica Vicenza e vi do l'appuntamento a giovedì prossimo su questa radio su 94 FM Radio Gamma vi ricordo la migliore radio del Veneto una radio che fa musica quando poca ma fa tanto discutere fa tanto pensare ed è preziosa per tutte le persone che vogliono confrontarsi anche quando certe trasmissioni non ci piacciono e ci permettono di continuare ci permettono di continuare a coltivare il nostro pensiero magari anche facendoci arrabbiare voglio dirvi un'ultima cosa ancora vi ricordo che il domenica sera su questa radio alle ore 18 c'è Ivano e Laura apri se vuoi c'è Ivano e Laura che fanno le pulci alla Bibbia che vi leggono la Bibbia e vi leggono i concetti della Bibbia bene siccome io praticamente adesso per un po' di tempo ando avanti col Giosinazza l'infamia umana e col crogiore del sentiero d'oro vi parlerò molto poco del patto di Nazareth e del macellare di Sodoma e Gomorra ascoltatevi Ivano e Laura che loro vi leggeranno passo per passo cosa ha fatto cosa esiste cosa è questa Bibbia e ricordatevi che i principi negativi le aberrazioni che loro vi indicano sono state il centro con cui è stato costruito è stata costruita la distruzione del divenire umano ricordatevi che quelle cose sono dette da Dio in qualunque momento quelle cose possono essere riutilizzate ricordatevi che tutta la storia sociale dal 1789 ha avuto come nemico la Bibbia i cristiani i cattolici i musulmani anche ma un po' meno perché hanno avuto il colonialismo però arriveranno anche loro arriverà l'integralismo ebraico sta arrivando l'integralismo induista sta arrivando l'integralismo dei lamaisti dei buddhisti del Tibet attenzione 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 quando si perdono le ossa della memoria c'è una loba che le raccoglie ma una loba sola ha molte difficoltà se molte lobe e molti lupi raccolgono le ossa possono udulare per costruire il divenire umano altrimenti certo ci sarà sempre un donkey shot che va contro i mulini a vento però il sistema sociale perderà una grande occasione per esistere grazie per avermi ascoltato e a risentirci giovedì prossimo grazie per avermi aspettato grazie per avermi Grazie a tutti